Ciao ragazzi, il video di oggi per lanciare una campagna si chiamerà Hug a Hater, abbraccia un hater. Ce l'abbiamo tutti queste persone nella vita, se ci pensate, su internet, nella vita reale, a volte anche in famiglia o sul luogo di lavoro. Sono le persone che sempre dicono di no, quelli che gli inglesi chiamerebbero i naysayers, e in generale le persone che comunque sembrano non credere mai in noi e criticare qualunque cosa facciamo. Beh, ricordatevi che gli haters sono la prova che siamo sulla strada giusta e secondo me sono haters per due motivi. Il primo perché ci invidiano, forse, il secondo perché invece fanno delle critiche costruttive e quindi davvero tengono al nostro sviluppo, al nostro miglioramento. Quindi usiamo le loro espressioni, le loro frasi, il loro modo di porsi come benzina e soprattutto troviamoli e abbracciamoli. Quindi rispondiamo alla negatività, non con altra negatività, ma con i fiori. Stop whining sempre!